Questo programma è offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale. Come un gol me tutta al sietta, se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of faccia che kiss in indissestio. Col collegamento in diretta al tuo paese, che parfa lo baste poco, un po' di cieca si dici. Tutte le friuli fra i tegniludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto il campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto il campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Tutto il campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto il campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Ed eccoci qua, buonasera, il momento del calcio direttante. Stasera puntata ridotta per tutto campo in concomitanza a livello di orario con la sfida Sampdoria-Udinese. Torneremo a parlare di Udinese fra poco con replay della sconfitta di Marassi. Però adesso spazio al calcio direttante, vi proporremo già stasera alcune immagini, alcuni spunti in attesa poi di lunedì in gol domani alle 19.45. Ma li vedete in scorrimento i risultati, ma andiamo con il riepilogo generale come ogni domenica, seppur con un orario diverso da palinsesto. Allora cominciamo con la Serie D, dicendo innanzitutto che non è stata certo una buona giornata per le nostre regionali, tutte sconfitte, questo è il quadro completo. Vedremo le immagini di Chions Campodarsico con la capolista che vince 4-3. Poi San Luigi sconfitto 1-0 dall'Este e la sconfitta del Charlins Muzzane e anche la sconfitta del Tarovigo Tamai 2-0. E invece per quanto riguarda il Charlins Muzzane sconfitto in trasfelta a Feltre 2-0. Guardiamo la classifica, la classifica dice che comunque resta a metà graduatoria la squadra di Moras con 24 punti in quel gruppo che guarda i play-off. Chions piccolo passo indietro a livello di classifica 12-19, poi resta la situazione critica di Tamai 7 e San Luigi 6 punti. Andiamo in eccellenza con il quadro completo, un'eccellenza davvero molto equilibrata con Fontana Fredda, Lumignacco 1-1. Il primo punto del Lumignacco ne parleremo, il Torviscosa batte la Gemonese 2-0, Baruzzini su rigore, poi al novantesimo ancora Baruzzini. La Manzanese, Spugna, Codroipo 2-1, ancora in gol Roveretto e Craviari dopo aver guadagnato la finale di Coppa Italia insieme al Torviscosa in settimana. Vittoria del Fiume, Veneto, Bannia, Prosecco col Primorie per 3-0, doppietta di Guizzo e gol di Milan. Pro Cervignano batte Ronchi 2-1, Cesselon, Serra e Dallegrini marcatori, Fagagna 4-1, Tricesimo 1-1, Frimpong, Domini, Lani e Tripletta. E doppietta, scusate, di Nardi. Il Brian Lignano batte la Progorizia 3-1, Flaibano batte Virtus Corno 1-0 con Cassin. I gol del Brian Lignano, prima di vedere la classifica, li vediamo subito, se la regia è pronta, per questo non vi ho detto i marcatori. Abbiamo, vi anticipiamo già queste reti, in quel di Gorizia, al Campagnuzza, la squadra di Virtus dimostra di esserci per guardare al primo posto in questa classifica molto equilibrata. Vince 3-1, però per sbloccarla ci vuole la ripresa al 49esimo con Doria e poi il secondo gol di Bergamasco, questo destro sul primo palo che batte contento. La riapre un ex, Ietri, che si aggiusta il pallone così e con un gol spettacolare trova il 2-1, poi non esulta, il 3-1 lo firma Cassin. Classifica all'ora dell'eccellenza, il Brian Lignano guarda là in alto, dove ci sono in questo momento in testa Fagania e Torviscosa 23 punti, Brian Lignano 22, poi Pro Cervignano 21, Manzanese 20. Vedete un grande equilibrio. Fiume Veneto-Vannia 18, Fontana Fredda 15, Fleibano Ronchi 13, Virtus Corno 11, la Pro Gorizia resta evidentemente in crisi, eliminata anche dalla Coppa Italia. 10 punti con la Gemonesi, Tricesimo 9, Codroipo 8, Primorie 4. Lumignacco primo punto, dopo la pubblicità ne parleremo. Adesso andiamo invece con i risultati della promozione Girone A, dove mostriamo questa foto. Vivai, visto che c'è arrivata in serata questo selfie che potete notare dal nostro titolo, perché se c'è una SPAL prima che oggi ha pareggiato lo scontro diretto con il Rive d'Arcano, dall'altra parte a 18 punti è salito il Vivai che oggi ha battuto nettamente la Buiese. Complimenti perché sta crescendo questa squadra. Rinviata per Tegada Camino e poi Prata-Falchi, Maniago Libero 2-2, Rive, SPAL 0-0, il Corva batte la San Vittese 2-1, Sacilese e Tolmezzo 0-0, Tarcentina Maranese 2-0, Casarsa batte Torre 1-0, Vivai appunto batte Buiese 4-2. La classifica dice che in testa c'è sempre la SPAL Cordovado con i suoi 23 punti, ma poi Prata-Falchi 18 e Viva Eurosedo a seguire. Tolmezzo, Sacilese, Rive e Casarsa 17, grande gruppo in corsa a playoff, Tarcentina 16, San Vittese 15, Maniago Libero e Corva 14, Maranese 10, Pertegada 7, Torre 6, Camino 4, Buiese 1. Andiamo adesso in promozione Girone B dove la Pro-Romance Medea non sbaglia ed è in testa la classifica. Ieri la vittoria della Juventina con l'Azzurra, Premareac 1-0 con il gol di Selva, l'Oltre batte il Costalunga 3-1, Pro-Romance Medea 2, Foromiuli 0, Risanese 1, Sevegliano Faugli 0, anche questo è un risultato importante. Staranzano batte Sant'Andrea 4-1, stesso risultato Sistiana-Seslian 4, Valnatisone 1, Chiarbola-Ponziana vince in trasferta col Trieste Calcio 2-0 e infine sconfitta la prima casalinga dello Zaule. Il Kras batte lo Zaule 3-1. La classifica della promozione Girone B dice che in testa la Pro-Romance Medea con 22 punti, subito sotto la Risanese a 21, poi Staranzano, Sistiana-Seslian e Chiarbola-Ponziana a 20, Zaule 17, Kras e Juventina che si posizionano a parte sinistra a 16, Sevegliano Faugli 15, Valnatisone azzurra 14, Oltre 11, Trieste Calcio 7, Foromiuli 6, Sant'Andrea 4, Costa Lunga ultimo con 2 punti. E adesso è il momento delle categorie regionali, partiamo dalla prima Girone A, andiamo con il quadro completo. Azzanese-Serone-Cane va 0-1, Aviano-Sanquirino 1-4, Bannia-Villanova 2-2, lo scontro diretto, Ragogna 1-1, Unpasiano 2-2, Sedediano-Rivolto 3-1, Sesto-Bagnarola sconfitto dal Ceolini 5-1, Union-Rorai-Valeriano-Pinzano 4-2, infine in trasferta Vane-Noncello batte l'Unione-Smt 4-3. Guardiamo la classifica della prima categoria Girone A, vi dicevo scontro al vertice tra Bannia-Villanova, il Sanquirino opta per il sorpasso, quindi va a quota 22, Bannia-Villanova 20, Sarone-Cane va 19, Union-Smt-Rorai 17, Azzanese 16, Ragogna 15, Valenoncello 15, Sedediano 14, Pasiano 13, Aviano-Rivolto 12, Ceolini 9, Valeriano 4, Fermo a 0, Sesto-Bagnarola. Andiamo con la prima categoria Girone B, Aurora Diana 3-3, Teor batte Basiliano 2-0, Colloredo-Martignacco 3-1, Grigiorneri-Furgol 2-0, Lavaria-Morteam-Venzone 2-0, Riviera batte Arteniese 1-0, Rivignano-Reanese 2-0, Torreanese centrosedia 2-2. Beh, sconfitta a sorpresa per il Venzone che resta primo, comunque con 25 punti, seguono in classifica ed eccola che arriva, Grigionieri 20, poi Martignacco-Rivignano 19, Lavaria-Morteam 18, Coloredo-Fulgor 17, Riviera 15, Arteniese 13, Torreanese-Teor 12, Diana 10, centrosedia 9, Aurora-Reanese 6, Basiliano 4. Ieri Riviera-Arteniese, Derby, noi c'eravamo, vi mostriamo già stasera il gol che ha deciso questa sfida che per il Riviera varia il sorpasso sull'Arteniese, partita equilibrata, poi la sblocca Sousa, il portiere tocca ma poi pallone sul palo e infine la rete per il gol dell'1-0 e Riviera che sorpassa e va a 15 punti e vince il Derby. È il momento della prima categoria Girone-C, questi i risultati, Aquileia-Ruda vince Ruda 2-0, Gonar-Santa Maria 0-4, Domeo-Mariano 2-2, Gradese-ISM-Gradisca 2-0, Mladost-Royanese 1-1, San Canzian-San Giovanni 3-1, UFM-Isonzo 3-2, Zaria-San Giorgina 1-0. Quindi per una classifica in prima categoria Girone-C che vede in testa il Santa Maria 26, Ruda 20, Gradese-Ezzaria 19, San Giovanni-Mladost 17, San Canzian-EUFM-E-Domeo-Mariano 14, Isonzo-San Giorgina 11, Aquileia-Gradisca 10, Roianese 9, Gonars. Crisi infinita ancora a zero punti. Andiamo adesso in seconda categoria Girone-A. Con i risultati di questa undicesima giornata, San Leonardo-Barbeano vince il Barbeano 4-3, Liventina-Montereale 1-0, Sarone batte Maniago 2-1, Il Tiezzo batte lo Spidimbergo 1-0, 3-S Cordenon-Zoppola 0-0, Virtus-Noveredo batte Vigo Novo 1-0, due regare rinviate. La classifica in seconda categoria Girone-A vede in testa la Virtus-Noveredo 28, a seguire Vigo Novo 27, in zona play-off Gravis 20, San Leonardo 16, Montereale 15, in zona play-out Polcenigo 3-S Cordenon-Z10, Tiezzo 9, Maniago 8, Zoppola 4. Andiamo in seconda categoria Girone-B. Ed ecco allora i risultati con Ancona-Nimis 3-0, il Grifone che batte il Ciconico 3-1, Cassacco 2-0 con l'Udine United, Mereto 4-2 col Treppo Grande, Moimacco batte Udine-Kiffit 1-0, Pagnacco-Moruzzo 2-0, Rangers-Arzino, L'Arzino vince 3-1, San Daniele 4-1, Chiavris 1. Classifica con il Girone-B di seconda che vede il terzo, il Mereto in testa con 24 punti, Pagnacco 23, Arzino 22, Ancona-Rangers 17, In zona play-out Treppo Grande, Moimacco 11, Kiffit 10, Udine United 8, Ciconico 6, Chiavris 4 punti. Andiamo nel Girone-C di seconda categoria, con 3 Stelle-Strasoldo 0-1, non abbiamo i risultati in grafica, vado alla lettura allora, Butrio-Tresel-Strasoldo 0-1, Butrio-Serenissima 3-0, Castionese-Flambro 0-2, Fiumicello-Morsano 1-1, Malisana-La Fortezza 3-2, Romana-Pocenia 1-1, Terzo-Torre 3-1, Unio-91-Trivignano 1-1. Non so se la classifica è aggiornata, comunque terzo in testa con 25 punti insieme alla nuova Pocenia, eccola qua, è giusta, Fiumicello 24, Morsano 23, Unio-91-17. In zona play-out Romana 10, Trivignano 9, Torre-Butrio 8, chiude la Castionese a 3 punti. Ieri il derby, Unio-91-Trivignano, si è chiuso 1-1. Nel primo tempo, calcio d'angolo e a percotto va in vantaggio l'Unio-91, i padroni di casa con Mansutti, ma il Trivignano nella ripresa, stessa porta, stessa quasi dinamica, calcio d'angolo, pareggia con il colpo di testa di Beltramini. Il Trivignano sale a 9 punti, l'Unio-91 in zona play-off con 17. Domani, lunedì in gol, ospite Simone Temporini, parleremo anche di seconda categoria. Chiudiamo con il girone D, dove la Triestina a Vittori sta guidando in testa, Azzurra, Breg 0-0, Campanelle, Muglia 0-0, Cormonese 6, Moraro 1, Turiacco, Isontina 2-0, Sovonnie Audax 5-0, Lopicina batte Studenti 1-0, Triestina a Vittori 4, Piedimonte 1, Vesna Primorez 0-0. E quindi Triestina a Vittori in testa con 26 punti, poi zona play-off Turiacco e Azzurra, Gorizia 21, Cormonese 19, Primorez 18, ai play-out Muglia, Breghe e Muglia 11, Vesna 10, Piedimonte, Moraro 4, CGS, Centro Studenti 2 punti. Ci fermiamo qua con i risultati, vi avevamo già mostrato qualche gol, per la terza categoria vi rimando a friuligol.it del collega Franco Poiano, che in questo momento naturalmente è impegnato tra risultati, classifiche, trasmissioni e lo rimandiamo alla prossima settimana, ma sul sito friuligol.it vi potete aggiornare anche sulla terza categoria. Pubblicità poi seconda parte con le immagini protagoniste. E dopo i risultati del calcio direttanti, avendo anticipato già i primi gol, le prime immagini, adesso è il momento dei servizi. Alle mie spalle i giocatori del Chions, Vingiano e Acampora, si riconoscono insieme a Pratolino, Vingiano e Acampora, protagonisti con i gol, Peccato però, non è arrivata la vittoria della squadra di Zanuttic contro la Capolista. La Serie D ci dice che c'è sicuramente insieme alla Driese, alla Corriense, una squadra molto importante. La squadra di Andreucci, l'ex triestina, che gioca un gran bel calcio, fatto di tocchi di prima, ampiezza e velocità. Dall'altra parte però, il Chions ha dimostrato anche con le grandi di saperci stare e resta, dopo il Cernese Muzzane, che invece non trova continuità là in alto, una di quelle squadre solide in una categoria che resta difficile. Tamai, San Luigi ancora sconfitte, sempre più in difficoltà. Tamai, si fanno i nomi di Lenisa e Vittore per il futuro, e il dopo Bianchini. Vedremo cosa accadrà in casa delle Furie Rosse. Intanto servizio, Chions, Campodarsico. Al Tesolin arriva la capolista, Campodarsico. Il Chions dopo sette minuti è sotto. Sulla destra, a fondo diamandio, il cross, sembra intervenire col braccio Spadera, poi viene atterrato Calì dal dischetto. Non sbaglia Gabbianelli. 1-0 per la squadra dell'ex triestina Andreucci. Ma il Chions reagisce subito. Cross dalla destra di Filippini. è a Campora, scandito bene anche dallo speaker, nel giorno del suo compleanno. Fa 1-1. Ci prova Filippini, pallone fuori. Ci prova poi con il destro, il numero 11. Pasquato, pallone fuori. Qualche brivido per Ceca. Guardate che bella azione. Quella del Chions, Spadera, si sovrappone sulla destra. Servito da Filippini, palla in area. Vingiano al ventesimo, impatta il pallone, fa 2-1. Rivediamo il gol che porta avanti la squadra di Zanuttic che mette in difficoltà. Nel primo tempo la capolista con attenzione e intensità. La squadra del mister Zanuttic ha gamba, voglia e grinta. Ma naturalmente deve fare i conti con la grande qualità del campo d'Arseco. Amadio impegna a Ceca che è attento. Poi guardate la giocata, il controllo di palla di Pasquato. La conclusione però è debole. Si fa male Filippini, deve essere sostituito. Tegola per il Chions. Intanto il campo d'Arseco continua a creare, a giocare e costruire pallone per il numero 9. Cali non riesce a inquadrare la porta con il destro. Attenzione a questa giocata in profondità, sempre Cali. Bravo Ceca in due tempi. Sul finale al 42esimo, calcio di punizione, pennellato di Pasquato. Guarda e basta. Ceca, il palone a infirarsi. Tre minuti dopo, al 45esimo, arriva il 3-2 che fa malissimo al Chions. C'è anche tanta sfortuna sulla conclusione di Gabbianelli. Arriva la deviazione di Callegaro e Ceca. Purtroppo, non ci arriva. Anche da casa si può vedere una partita bella, divertente, con giocate davvero interessanti. Merito del Chions e naturalmente delle qualità di questa capolista della Serie D. il 4-2 e un colpo di testa di Cali sulla punizione di Gabbianelli. Non perfetta la marcatura dal compaure. Qua la partita praticamente si chiude e prove a riaprirla. Franciosi, ma viene fermato dalla traversa e poi ormai è il 93esimo quando Novati sigla il gol del definitivo 4-3. Sentiamo a fine gara l'analisi di Mr. Zanuttic. Il Chions gioca un grandissimo primo tempo e poi sul finale due episodi che decidono praticamente tutta la partita. Sì, sì. A parte il primo tempo io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in tutta la partita. Di fronte abbiamo affrontato una squadra notevolmente importante, forte, brava. Gli episodi non ci sono girati molto dalla nostra parte. Devo dire che l'infortunio di Alberto un po' ha condizionato quello che è il nostro modo di giocare davanti e purtroppo però il rammarico che ho è che nei momenti importanti la direzione è andata sempre da una parte sola. Non voglio parlare di albitri, di scelte, non me ne frega niente però sinceramente il quarto gol mezzo e mezzo è stato fischiato. Il primo gol che abbiamo subito su Filippini sulla bandierina c'era un fallo grande come una casa di una spinta dicono spalla però capito io l'ho buttato a quattro metri e va bene poi calcio di rigore però non dobbiamo prendere il gol del 3 a 2 alla fine del primo tempo lì abbiamo perso una palla davanti la panchina a 70 metri dalla nostra porta e lì si è stati molli e questo un po' mi gira però ovvio mi dice che con squadre di così grande qualità deve girare tutto non puoi sbagliare assolutamente niente diciamo prendiamo le cose positive questa squadra quando riesce quando può crea anche un gioco intenso importante questo penso sia la nota positiva sì sì ma no ma io sono sono stracontento di questa cosa qua voglio dire abbiamo fatto tre gol su azione che non è poco noi ne abbiamo preso uno su rigore uno su punizione uno che gli ha preso sulla schiena è un calcio piazzato bravi sono girati tutte bene sono una squadra fortissima gli episodi non ti sono girati giusti però io penso che abbiamo fatto una prestazione importante primo tempo soprattutto ecco complimenti a parte però domenica bisogna riguardare alla classifica no? perché c'è il belluno è la coperta la tiri su la tiri giù è logico che i calendari se non li affronti primi li affronti dopo però io penso che la lunga va vista la classifica va vista e le partite alla fine del girone per vedere come siamo io sono convinto che abbiamo fatto un lavoro importante è logico che la squadra è corta mi sembra tolte le ultime tre sotto che sono staccate in maniera importante le altre voglio dire dopo sono tutte lì vicino ma se la giocheremo tutte ma ci sono tantissime squadre anche quelle che sono avanti due o tre punti non è che cambia molto insomma siamo tutti lì però è logico questa è una domenica importante è una settimana importante a preparare bene andare a Belluno a giocarcela alla grande penso che abbiamo anche le qualità per portarsela a giocare possiamo chiudere dicendo che in una serie di complicata anche oggi comunque se andiamo a guardare i risultati tutte sconfitte possiamo dire che il Chions c'è? sì assolutamente sì ma ce la giocheremo bene io sono convinto che alla lunga questa squadra fa bene è logico che ci sono delle partite dove obiettivamente sono difficili però c'è grande soddisfazione aver fatto tre gol su azione oggi secondo me è un motivo per martedì di ripartire con grande voglia e essere anche sereni passiamo all'eccellenza alle mie spalle c'è il volto di De Pieri protagonista di giornata perché se in questa categoria c'è il grande equilibrio per la lotta al vertice dietro in classifica c'è la profonda difficoltà del Lumignacco che ha scelto appunto De Pieri come allenatore che guadagna il suo primo punto a zero dei direttanti restano Gonarzo e Sesto Bagnarola non più Lumignacco servizio è il giorno di Maurizio De Pieri esordio sulla panchina nel Lumignacco al Tonion dove vinse l'eccellenza e salvò il Fontana Fredda in serie D per me qui guardi dove stiamo facendo l'intervista la sento un po' a casa mia insomma ho passato tanti anni belli ho vissuto tante situazioni importanti però oggi ripeto era più importante riuscire a fare un risultato positivo quindi la mia concentrazione era più sul Lumignacco però rimane sempre un piacere venire in questo stadio e vedere questi colori Campo pesante testa sulla nuova avventura per De Pieri terzo allenatore sulla panchina del Lumignacco ancora fermo a zero punti in partenza pericoloso subito il Fontana Fredda poi a fondo dice schiat gol di Gurgu il colpo di testa sul primo palo deve reagire la squadra di De Pieri che appunto è chiamata i primi acuti stagionali dopo nove sconfitte consecutive il Fontana Fredda non riuscirà a raddoppiare sprecando e a Piadu invece siglerà il gol dell'1-1 e così si materializza il primo punto per il Lumignacco beh oggi sinceramente credo che questo punto sia un punto importantissimo perché ci permette di ritrovare un po' di entusiasmo di morale e abbiamo fatto questo punto grazie a una grande partita perché non era facile campo pesante situazione mentale che chiaramente conosciamo tutti e devo dire che i ragazzi oggi si sono dimostrati molto molto bravi e ho avuto le risposte che volevo quindi un grande merito va a loro dall'altra parte la delusione di mister Moro la partita va chiusa quando diciamo hai quelle occasioni importanti noi non siamo riusciti a farlo e loro invece sono stati bravi a cogliere il momento giusto della nostra difficoltà tra virgolette noi abbiamo così siamo un po' intimoriti loro hanno alzato il baricentro ci hanno provato in tutte le maniere ma noi siamo stati diciamo poco cattivi nel momento in cui diciamo dovevamo capitalizzare e quindi c'è questa delusione per il risultato ma non certo per l'impegno come sempre i ragazzi si sono impegnati e allora si sblocca il Lumignaco primo punto questa insomma è una delle partite di questa giornata che vi avevamo proposto vi avevamo già proposto il gol di Brian Lignano domani 19.45 l'analisi completa dell'eccellenza e naturalmente anche spazio alle altre categorie con Gabriele Magrini Sara Ramani ospite Simone Temporini per stasera puntata ridotta è tutto vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento con il cancio di dettanti è per domani lunedì in gol 19.45 ciao a tutto campo non stare calmo il pubblico in silenzio la palla li ferma al centro poesia e il movimento coi piedi come strumento qui si gioca a tutto campo il friuli ci fa da sfondo e ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo cacuietti alle la tv ponet che parfa lo tv smicchie come un gol me tutta il siet se c'è massimo in diretta non un test solo il best off faccia che kiss in indissestio col collegamento in diretta al tuo paese che parfa lo baste poco questo programma è stato offerto da cda gestione distributori automatici una scelta naturale